Salve amici di Lollotubo 75 benvenuti e ben ritornati nel mio canale oggi siamo allo stadio a vedere il big match triestina padova questo è lo stadio per adesso è ancora vuoto speriamo nonostante tutto il campo sembra in buonissime condizioni purtroppo non è così in realtà gentile pubblico con il numero 3 fascia da capitano Alessandro Malano con il numero 7 Aliaz Struda eccociato un numero un numero un numero un numero un numero Grazie per la visione!